Carter, partiti, primi metri di gara alla corda, Marli d'Alcadia all'esterno, King Boot, Marco il Biondo, Diamante Verde, Alnilam, Massimo Donni. All'attacco della prima piegata, King Boot in vantaggio nei confronti di Marli d'Alcadia, Marco il Biondo, Diamante Verde, Massimo Donni, Alnilam. A 600 metri conclusivi, King Boot in funzione nero è in vantaggio e prende 5 nette nei confronti di Marco il Biondo, quindi Massimo Donni e Diamante Verde. Sull'ultima curva King Boot in vantaggio, deve essere richiesto da Cristiano per allungare nei confronti di Marco il Biondo, c'è la risalita di Diamante Verde nelle retrovie. Sull'ultima curva King Boot che cerca la fuga nei confronti di Marco il Biondo, quindi Diamante Verde. Ingresso e addirittura d'arrivo, signori, King Boot in vantaggio nei confronti di Marco il Biondo e Diamante Verde. King Boot come doveva essere è stata, signori, la più classica passeggiata nei confronti di Marco il Biondo, Diamante Verde. e Mario D'Arcadia continua, continuano le vittorie di King Boot qui sul tracciato di Corridonia. Seconda vittoria in questa annata, rivediamo questo cavallo che è solo da invidiare, signori. King Boot è la più classica passeggiata, valeva la quota 1-13, non c'è nient'altro da aggiungere. King Boot che vince su Marco il Biondo e finisce secondo, terzo il numero 2 Diamante Verde. 3-4-2, l'ordine numerico ed ufficioso per questa seconda corsa in programma, vince King Boot.